In San Giuliano le dimissioni mi avevano chieste per come ha fatto il ministro della cultura e posso dirle una cosa, so che prima e anche nei giornali se ne parla la Meloni non è una persona impreparata, non è una persona che non si legge le cose ho avuto dei confronti con lei, sul salario minimo e su altre cose ma sa che c'è? Che la classe dirigente veramente non riesce a gestirle questo paese forse sarebbe il caso, io dico per l'Italia, che ammettesse che persone come Santanchè, come San Giuliano ma anche forse come Urso che fa più tavoli, ormai è diventato un produttore di federlegno arredo perché l'unica cosa che fa sono tavoli che non producono niente, pensi il disastro di Stellantis di cui la sinistra non parla, perché non parla perché gli Elkan possiedono Repubblica perché queste sono le ipocrisie italiane e allora il ruolo io credo che deve avere, se vogliamo cambiare qualcosa se no facciamo sempre la stessa cosa di cui poi ci lamentiamo cercare di dire un po' le cose come stanno San Giuliano è inadatto a fare il ministro ma non perché ha portato una signora in giro, non si capisce bene a che titolo ma perché tutti i giorni lancia sbruffonate e poi non seguono atti e la cultura in Italia è un disastro e noi pensiamo un paese del rinascimento che è irrilevante, questo è il problema di San Giuliano e la cultura in Italia è un paese del rinascimento